Abusi sessuali su una minorenne nel Nisseno e tentata prostituzione minorile. Con questa accusa i carabinieri del reparto territoriale di Gela, in collaborazione con l'arma di Villanova d'Asti, Catania e Ragusa, hanno eseguito tra venerdì e sabato mattina otto ordini di esecuzione pena nei confronti di altrettante persone emessi dalla Corte d'Appello di Caltanissetta, dopo la condanna definitiva da parte della Corte di Cassazione, con pene comprese tra i 4 e i 6 anni di reclusione. Arresti che arrivano a conclusione dell'indagine Sin City, portata a termine dai carabinieri nel 2007, che fece luce sulle violenze sessuali subite da una donicenne, da un gruppo di adulti che aveva anche tentato di farla prostituire. Le indagini furono avviate dopo la denuncia del padre e della ragazzina, insospettito dal comportamento della figlia. Sospetti confermati dalla minore durante le audizioni con i militari, che ha anche svelato i particolari dei luoghi dove ha subito la violenza. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi nei confronti del 58enne Angelo Ferrigno, del 67enne Salvatore Chiolo, del 49enne Luigi Azzolina, del 38enne Giuseppe Portello, del 72enne Cristoforo Boscaglia, del 41enne Carmelo Ridolfo Nicastro, accusati del reato di atti sessuali con minorenne, nei confronti del 39enne Roberto Gulisano e della 30enne Romena Irina Pricop per il reato di tentata prostituzione minorile. Gli arrestati sono stati rinchiusi nelle carceri di Gela, Caltagirone, Ragusa, Catania e Torino. Le in ambito dei servizi svolti a prevenire e reprimere i reati, i poliziotti del commissariato di Gela, grazie a una telefonata anonima, hanno sventato un furto di materiale ferrosa all'interno di un'azienda agroalimentare incontrada a Burgio Agro di Butera. In arresto il 34enne, pregiudicato Salvatore Gravina, sorvegliato speciale con obbligo di dimore, il pregiudicato 41enne Alessandro Piscopo, sottoposto alla misura cautelare di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria. I due uomini, che avevano caricato materiale ferroso su un furgone dopo aver forzato la catena del cancello scorrevole dell'azienda, una volta sorpresi dai poliziotti, hanno tentato in vano la fuga. Il furgone e gli arnesi utilizzati per lo scasso sono stati sottoposti a sequestro, mentre la refurtiva del valore di circa 5.000 euro è stata riconsegnata al legittimo proprietario. I due uomini, dopo le formalità di rito, sono stati condotti in carcere a disposizione dall'autorità giudiziaria. Sempre poliziotti di Gele, in questi giorni hanno tratto in arresto il 49enne Filippo Russotto e il 33enne Orazio Tallarita, entrambi in ottemperanza all'ordinanza di revoga delle misure alternative alla detenzione messa dal Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta per il reato di evasione. Denunciati inoltre un 19enne per resistenza pubblico ufficiale, un 48enne e un 50enne per lesioni personali e minaccia, mentre nei confronti di un 57enne è stato emesso un decreto di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare, poiché in più circostanze si è reso responsabile di vessazione nei confronti della moglie. Controllate inoltre due attività, tra locali del Centro Storico e del Lungomare, 26 persone. Tre, le infrazioni riscontrate. Controllate inoltre due attività, grazie a dispia di stare. Prontate inoltre due attività,